Cinque anni di promesse disattese per l'ospedale Caracciolo. Pensate che qui gli operatori attendono ormai da tempo in memore l'installazione, la messa in opera di una TAC. Ma sono tante altre le criticità riscontrate. Pensiamo per esempio al laboratorio analisi o al reparto di dialisi dove si fa una terapia salvavita e deve essere installato un impianto di biosmosi così come dovrebbero arrivare delle ulteriori figure professionali per poter garantire più pazienti, ma soprattutto per poter garantire un'assistenza migliore a quei pazienti che si sottopongono, ripeto, a una cura salvavita. Ma ancora pensiamo all'assenza del pediatra di base, quindi 500 bambini che ad oggi non hanno l'assistenza di un pediatra di base. Le sale operatorie, qui ci sono delle sale operatorie rimesse a nuovo nel 2016 in cui sono spesi un sacco di quattrini dei contribuenti che sono state chiuse poi ultimamente e ancora non tornano in funzione, mentre potrebbero garantire tutta una serie di interventi, di dei sargeri fondamentali per abbattere le liste d'attesa che ormai sono diventate bibliche in tutto il Molise. Bene, per cercare risposta a tutto questo ho presentato una formale interrogazione al Presidente Roberti.